E' uno degli eventi culturali e musicali più atteso, nato in Sardegna, ideato e curato dal trombettista Paolo Fresu, il Time in Jazz di Berchida, diventato il festival internazionale del jazz, compie 36 anni. L'apertura della prevenita dei biglietti per l'acquisto di uno dei concerti di punta del festival, quello di Malika Iana, nello scrigno della gnata di Fabrizio De Andrè, segna il via ufficiale alla manifestazione in programma dall'8 al 16 agosto a Berchida, in altri 15 centri del nord Sardegna. Il concerto Lagnata di Malika Iana, previsto per il 9 agosto, aggiunge la voce femminile della cantante milanese a quella degli artisti che l'hanno preceduta negli anni passati, in questo omaggio sempre speciale e affollatissimo di pubblico all'indimenticabile cantatore genovese. Time in Jazz si presenta quest'anno nel segno di Futura, titolo preso in prestito da Lucio Dalla, che intende abbracciare idealmente diverse generazioni, alle quali si ispira il festival itinerante, che propone tanta musica, jazz non solo, ma anche mostra e presentazione di libri, incontri con gli autori, iniziative di promozione, di sensibilizzazione ambientale. Tre protagonisti del versante musicale, anche Tullio De Piscopo, la cantante Serena Brancale, il sassofonista Roberto Taviano, il gruppo africano del Burkina Faso, Farafina, e il cast del progetto Good Old Boys Grand Orchestra, ovvero i Colle del Fomento, Chaos e DJ Crime. Grazie a tutti.